buongiorno a tutti signori mettete sul mio canale qua da titolo sarà il primo video alcolico di questo canale non dovrà succedere già primo ospite non avete mai visto ospite dei miei video comunque diversi ospiti in questi anni lui abbiamo fatto anche è ospite qui nel mio canale insomma e oggi c'è un video di bambino forse si perché c'è un bolino giallo allora è semplice prendi col bevi diamo birra prosecco limoncello e gusto ogni gollo uno shot da caffè ovviamente ogni gollo è qualcosa di diverso se no qua la botta non si rende mai passiamo da tre risposte per questo video non la bocca allora quando il video non si voleva fare in realtà si voleva fare quando il video è particolare e fa cagare quando il video è stato richiesto da tanti non è stato richiesto da nessuno in realtà funzionano sempre così allora usiamo squadre casuali ma merda si però ovviamente stesso rating ok ci siamo eccoci su fifa per una quattro stelle dai quattro stelle si vabbè via c'era il galatas vabbè più io western ok vabbè tanto io ci sto e per la seconda di fare il classico tanto la qualità dei giocatori è quella ok giocheremo con la neve da quel che dice la grafica la neve la neve siamo Maradona no no tanto le censuro vabbè perché se no penso che il tema centrale di questo video sarà censurare i boccoli spero per loro perché se no ti banno oh che bello sembra un fifa 11 questa neve meno male non ci danno delle parole con un bianca con un bianca no al primo tiro mi incazzavo come una bestia avanti tira città sarà oh no ma dove cazzo tiri no ma come no no ma che cazzo è pazzini ma dagli una pisellata no terza categoria marlo stromalo ma vaffanculo ti ho tutta la pagina che sto dominando dalla vita fai il primo tiro un gol ma via vai ma vaffanculo tira 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 anche bello parliamone primo tiro primo tiro probabilmente primo tiro cioè dai penso che anche nella vita reale riuscirebbe a fare un gol così tanto tutto sto video sarà una censura perché mi diverto poi a editarlo marlos c'ha il fisico di mia sorella e riesce lo stesso a contrastare questo qui che è un metro e novantanove per duecento centimetri di cazzo fammi capire mamma mia tyson 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 cioè il fisico di mia sorella sto qui riesce a superare tutti ma tremi la nota non stia tyson tyson dai ma nota ma rovinato dio *** Dio te l'ho detto che è una continua censura anota ma no bu anota sto coglione vabbè esser buono sto prosecco eh e due la situazione non è come si era messa all'inizio come doveva mettersi all'inizio c'ho un portiere preso questo è uscito dallo vittoria questo è uscitato per giocare a sta partita questo se mi dai tu io non giocavo più bebi se lo bebi vieni dai 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 ma sono ancora la pilota quello più buono si si vai 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 Questa non la mettono in contrario Spisellalo così vai No ma come l'ha passato E' un arco Che cazzo fai Fino a primo tempo Andate come speravo Ma ci rifaremo No nel senso che ora lo riempio Che ti importa quanto a 4 Non mi preoccupare Ma che cazzo fai Che squadra di merda Che squadra di merda Dai No Ma che cazzo di tiro è Porca Ah Ah Eccoli Davo Oh 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 Ma questo è 3 tiri 3 gol raga veramente Oh 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 bevi te lo vai bevi bevi la difesa manco le gambe di cicciolina non aveva difesa entrava ogni rapace possibile appunto anche rapace dare anche a nero hai l'efficienza del mio scroto non ti preoccupare tra un po' bevi di moncello in piedi ha respinta no tira no 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 che cazzo è ah oh io non mi sento male ti faccio bannare dal canale si mette difensivo classica tattica da cancri di chi non sa giocare a fifa di fifa che cazzo è questo è l'unica parata che fa ovviamente te la fa subito ovviamente oh 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 no il gol della merda no 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 non sai giocare vai a casa ragazzi sono vicini buttalo dentro mi trovo meritatissimo ragazzi siti tutti meritatissimo ora te lo bevi no 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 fammi vedere che lo faccio lo faccio lo faccio a 20 mi importa i dati partita non ti preoccupa dai eh ragazzi è proprio fifa proprio fifa uguale 3 a 3 11 tiri contro 4 in porta 20 triri contro il concerto 15 18 19 25 25 25 25 1800 25 25 26 25 Adesso... Buono il whisky adesso! Ma vai a cagare! Io non me lo bevo più! Ecco i vicini! Ecco i vicini! È arrivato il momento di mettersi tutti dietro! Tutti dietro! Te... Sei un cancro! Non posso prendere il kick of witch! Succa! Succa! Non posso prendere il kick of witch? Adesso... no no no! Ah è il whisky, whisky Vabbè ho più di tanto il tuo canto! Esatto! Bravo! Termina un pareggio eh! Perché vuoi... Dopo vuoi ne fai il classico! Vedete? Vedete? Questo è fallo! Dio cane! Ricorre! 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 Signori, ricorre Ricorre pieno A 100 like 100 Secondo video A 100 like Perché se arrivano a 100 like Vedete che avevano 30 mila news 100 like Secondo video Detto questo Fate il cazzo che vi pare Lasciate like, dislike, quello che volete Ci vediamo presto